Ad una settimana dal termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali in vista della chiamata alle urne del 25 settembre, il Partito Democratico ha scelto i suoi candidati. Lo ha fatto al termine di un ferragosto di consultazioni e travagliate decisioni per il partito di centro-sinistra che ha svelato i suoi candidati al Parlamento regione per regione. Per quanto riguarda le marche, al proporzionale la candidata capolista alla Camera sarà l'ex deputata ed ex vice sindaco di Macerata Irene Manzi. Sempre al proporzionale il candidato capolista al Senato sarà invece il commissario regionale del PD Marche Alberto Lossacco. Candidato al secondo posto proporzionale al Senato sarà il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, mentre secondo posto al proporzionale della Camera sarà Augusto Curti e terza l'ex deputata pesarese Alessia Morani. Nessun candidato pesarese è stato dunque indicato come prima scelta al proporzionale, mentre il collegio uninominale di Pesaro alla Camera è stato assegnato alla deputata uscente Alessia Morani, che attraverso la propria pagina Facebook ha però rifiutato la candidatura non senza polemiche. Ho saputo quale fosse la mia posizione in lista solo al momento della lettura da parte di Marco Meloni dell'elenco dei candidati, ha scritto la Morani attraverso i social. Ho comunicato al mio partito che non intendo accettare queste candidature. Avrò modo in seguito di spiegare le motivazioni che mi hanno convinta della bontà di questa scelta.